Bene gente andiamo avanti con l'avventura di Konami X-Siles Dal video precedente sono passate tantissime ore Io sono ancora alla ricerca di uno schiavo di livello 3 per completare la missione dell'oggetto eccezionale o impeccabile E ho trovato una danzatrice che vabbè non sono riuscito a catturare Però ho girato veramente una porzione di mappa immensa E mi sembra sinceramente assurdo che sia così difficile trovare uno schiavo di livello così alto Nonostante praticamente abbia girato il 50% di mappa E che questa missione mi sia messa sull'ambiente del capitolo 5 Adesso io non so cosa mi aspetto nei capitoli successivi perché è la mia prima run Però è un po' frustrante cioè nel senso io sto prendendo veramente tantissimo tempo Alla cerca di questo personaggio per completare la missione E insomma mi sta un po' scocciando sinceramente questa cosa Guardate quanta area ho esplorato L'ultima volta che ci eravamo lasciati alla baglia dei Bucanieri dove ho trovato il galeone pirata Poi sono ritornato indietro qua Ho esplorato tutta quest'area qua Ho trovato anche mostri piuttosto grossi devo dire E tutta quest'area qua qua dove c'è il galeone pirata Mi pare sì più o meno è qua vicino È tipo qua E il galeone è quello di... il galeone nero E poi tutta quest'area qua sono ritornato qua in nessun fabbro di livello 3 Fabbro adesso non so artigiano comunque Non so bene nello specifico chi mi serva Insomma comunque io sono alla ricerca di carpentiere Il tizio delle corazze Insomma artigiani che possono produrmi oggetti comunque Quindi niente raga io un pochino sinceramente mi sto scocciando Adesso provo ad andare qua La via degli schiavi Proviamo a vedere un po' A sto punto cioè io mi esploro per i fatti miei Tutta l'area Cioè vado in giro un po' a casaccio E decido Non so neanche più a sto punto Se abbia senso stabilirsi qua Anche se mi è sembrato un'ottima Un'ottima location dove Costruire proprio per vicinanza di ferro Eccetera 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 Niente quindi Ci facciamo ancora un giro Magari pensavo di andare qua Ok Qui è dove ho costruito la mia seconda casa Quindi Magari può essere un nuovo persi E esplorare tutta quest'area nord Altra cosa che secondo me è molto importante E questa cosa qua Frammento scheggiato di pietra e del flagello Questo è un frammento leggendario di pietra e del flagello Purtroppo si è rotto e deve essere ricomposto a qualcuno che ne comprenda il potere Questa qua è quella che ho trovato Alla baia dei bucanieri Ho raggiunto la mia casetta Non resta che proseguire raga Farsi un giro Provare a raggiungere la via degli schiavi Magari la via degli schiavi Può Possono esserci schiavi Cioè in teoria Potrebbe avere un senso no E vediamo un attimo com'è la situazione schiavi Perché È frustrante Ma soprattutto la cosa frustrante è che Spostarsi da una parte all'altra Della mappa Richiede Molto tempo Quindi continuare a fare avanti e indietro E non avere a disposizione Quasi tutte le risorse È fastidioso anche perché io comunque Mi scoccio a costruire mille case in giro per il mondo Ma anche quelle case una volta che ce le hai Nel senso È fastidioso È fastidioso La progressione del gioco è lentissima Ma secondo me Il discorso degli schiavi è stato disposto In modo In malo modo Oppure È talmente raro trovare Schiavi di alto livello Che bisogna girare tanto Ma è fatto Cioè nel senso Va bene che Bisogna starci tanto su sto gioco Eccetera 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 Ma Fammi Trovare qualche schiavo Un attimino Un pochino più decente Tutto qua Cioè perché Se no veramente diventa Una roba fastidiosissima Quelli che ritengono il Il villaggio sono sempre Sono sempre un pochino più fighi Rispetto a Gli artigiani che ci sono all'interno Quindi Bisogna proprio Non lo so Forse andare In un luogo Però Io Cioè Ho trovato alcuni villaggi Dove la gente è di livello Quelli che difendono Sono di livello Tre Però Comunque qua no Bisogna andare secondo me In zona un po' di nicchia Però cavoli In zona un po' di nicchia Io mi sono fatto Tutta la foresta Cioè sono andato fino qua Qua la gente non è che erano Proprio degli stronzi Cioè insomma Anche qua Cioè Boh Non lo so Non lo so raga Provo Continuo a girare A caso Nella speranza di Di trovare qualcosa Mano del creatore Proviamo A esplorare magari Sta zona qua E vediamo Vediamo se c'è magari Un buon punto Dove Dove posizionarsi Per crescere E vediamo un attimo Un po' i villaggi Che Che ci possono essere Intorno Ah qui Io sono in una direzione Quello che volevo Andare a vedere Era qua Era farmi un giro Qua dove c'è Questo laghettino Per vedere se Se riesce a recuperare Qualcosa Anche Anche questa parte Che c'è qua A bianca Un po' i villaggi Un po' i villaggi Mi incuriosisce Sinceramente Qua c'è un accampamento Raga Sembra piuttosto Quello del galeone Nero Però Abbastanza grosso Magari potrebbe Riservare Insomma Qualche sorpresa Secondo me vale la pena Provare a farsi un giro Vediamo L'arciere Di che livello è Oh livello 3 Magari Aia Magari Wow Solo che sta facendo Anche buio Combattente di livello 1 Accampamento Non lo so Forse Gli schiavi Me li Me li droppa Una volta che Ho raggiunto Il livello Un livello più alto Non lo so Al momento Mi trovo qua Ho anche Messo un piccolo Giaciglio Continuo a vagare Raga Continuo l'esplorazione Vi farò vedere I momenti più belli Di questo lungo viaggio Perché Raga L'ambientazione È veramente Veramente Stupenda E qua Come potete vedere Ci sono anche Degli elefanti Che mi hanno detto Che gli elefanti Hanno Droppano Una carne Una carne più pregiata Presente in tutto il gioco Quindi Insomma Nel caso Dovesse avere Necessità Potrei anche Fare un tentativo Di avvicinamento Eh no Oh merda 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 È grosso Quanto li ho tolto? Dai Piano piano Va giù È passibile Allora Se riesco Ok Forse È quasi meglio Non mirarlo Raga Però Qua tra le gambe Mi sembra Bastanza sicuro Forse Quando fa sta cosa Insomma Potrebbe essere Un pelino Pericoloso Ma Sembra Aia Vai Ottimo Insomma Come animale Come animale Come animale È stato Abbastanza impegnativo Insomma Direi che È stato Abbastanza impegnativo Carne esotica Non vedo l'ora Di metterla Alla griglia Alla griglia Alla griglia Quelli sono rinoceronti, raga Ok, potrebbero essere forse un pochino più pericolosi Dei, degli elefanti Perché insomma, in genere rinoceronti Però questi non attaccano E invece sì, e invece sì Merda Eh, ok, 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 aspettate un attimo Mamma mia, mamma mia Che vacca Oh, no, vabbè, ma raga, questo leone qua mi ha fatto che era addosso Via Non gli tolgo niente Raga, il leone è appena diventato il mio migliore amico Praticamente mi sta praticamente facendo uno sterminio di elefanti A questo punto Di elefanti, di rinoceronti A questo punto Ne approfitto per vedere Che cosa mi dà Carne esotica anche questo Ok Meno però rispetto a quella dell'elefante Quanto ha di vita Perché No, ancora un po' troppa vita Ancora un po' troppa vita Via Ancora un po' troppa vita Grazie a tutti. 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 Allora qua dovrebbe esserci credo sia tipo una specie di oasi. Vado appena a tentare a fare un giro insomma. Almeno valuto anche eventuali possibili luoghi dove creare nuovi accampamenti per stabilizzarsi. Cos'è questo rumore? Quello penso sia già un insediamento. Per rinoceronti è meglio stargli alla larga. I coccodrilli ce li sbraniamo. Però questo è il coccodrille più forte degli altri. L'audio come sempre di questo gioco fa cagare. E vai Viena. Adoratore Dimitra non mi carica i personaggi raga. Vedete? 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 Sono invisibili. Peccato perché guarda questi difetti qua fanno calare il valore del gioco tanto. però a livello di congettura di base è notevole sto gioco è un vero peccato raga ci sono un po' di difetti che insomma bisogna essere insomma un po' bisogna sopportarli purtroppo cadono anche proprio a livello di atmosfera insomma qua abbiamo delle rovine si trovano qua qua dovrebbe esserci un altro laghetto non lo so non so sinceramente dove andare magari il laghetto mi ispira ma anche le rovine non lo so proviamo a farci un giro qua raga proviamo ad andare a quel laghetto qua abbiamo serpenti ok qua c'è del minerale di ferro quindi anche costruire una una base qua secondo me può essere un buon un buon punto comunque il minerale di ferro il carbone insomma non non dovrebbe essere malvagissima cosa come cosa poi sono sicuro che andando più avanti mi richiederanno che cocchio ha questo è grosso che schifo a me i serpenti mi fanno veramente schifissimo mamma mia raga ho i brividi sulla schiena mi fa mi fanno veramente schifo i serpenti proprio una roba che mamma mia mi viene proprio il volta stomaco ma come si muove tutto schifoso mamma mia che schifo non ti avvicinare neanche che mi viene il vomito non mi piace sta zona troppi serpenti raga sono abbastanza fattibile ma me proprio mi che schifo mamma mia tipo anaconda sangue di demone buh ci ho i brividi sulla schiena raga mi fanno veramente schifo mamma mia ancora ancora quelli lì questi qua piccolini vabbè ma quello lì grosso tutto schifoso buh babbia allora il laghetto e qua avanti allora io di qua ci ero passato nelle pareti precedenti quando poi mi ero perso dovevo andare alla torre del pipistrello ma ero qua praticamente avevamo fatto tutto il giro intorno perché non volevamo ribeccare scheletri e quant'altro eccolo ecco lì che fa rumore ok questa qua è un'area tutta nuova ancora da esplorare io ero solamente passato qua di fianco ma di sfuggita questi li abbiamo già insomma visti diverse volte non sono una roba sono abbastanza fattibili come nemici poi vabbè quando iniziano a riparne tanti potrebbe essere un problema ma finché sono due sono gestibilissimi ecco lì ecco lì e si bugga così che roba è questa questo è minerale di ferro questo è carbone queste pietre solamente hanno semplicemente un colore diverso un laghetto ma è un laghetto ghiacciato praticamente se si può evitare eh vaffanculo vedete lo addosso quando sbucano fuori così fonte distrutta wow e questi alberi che sembrano persone possono essere sì danno al legno beh raga il termine di ambientazione non c'è che dire vale la pena veramente esplorarlo questo gioco insomma però nulla di chi è nessun insediamento nessuno nessun tipo di schiavo da gas velenoso quindi non posso avvicinarmi qua devo andarmene non posso avvicinarmi speravo di farmi un sorso d'acqua ma quanto pare non lo so raga prova a spostarmi magari un pochino più a nord prova a vedere qua che c'è a questo punto però non vedo ci sono sempre meno villaggi dove poter trovare schiavi sinceramente quindi il mio obiettivo sta andando un po' a farsi fottere e guasto cosa si faccia però sembra abbastanza attività io sono fattibile avvelenato ok questi qua vediamo devo stare molto attento perché le morti più brutte avvengono quando muoio per avvelenamento però di qua non si passa allora vediamo di qua dovrebbe esserci una sorta di stradina che mi permette di arrivare a questo lago dobbiamo farci un giro vedo un passaggio quindi vediamo dove parto nessun segno di vita sto beccando solamente insetti e mostri e serpenti animali feroci magari lì in fondo vedo delle strutture magari potrebbe essere potrebbe esserci qualche accampamento mi sembra assurdo comunque raga che abbia girato quasi tutta la mappa e non abbia trovato insediamenti con schiavi di livello alto cioè mi sembra veramente una roba assurda fine del fiume che è? aspetta quello sta mutando dove va? eh ma qua fa molto freddo io ho paura di schiattare male cosa fa questo? spara con la balestra aspetta è morto ok oh raga cuoio spesso cuoio spesso prendiamolo dai piuttosto tranquilla questa foresta nessuna bestia feroce nessuno di nessuno che vuole che tenta di uccidermi insomma mi sembra un po' troppo la quiete prima della tempesta allora abbiamo raggiunto questa struttura vediamo sembra disabitata torri di guardia oh amico nemico eh che pareva combattente di livello 3 attenzione potremmo avere schiavi di alto livello eh questo qua è tosto raga molto tosto finchè uno è gestibilissimo polvere di fuoco magico prendiamola vetro il vetro mi sembra non ho ancora capito come ricavarlo quindi magari insomma prenderne qualcuno potrebbe essere utile oh altro accampamento sacerdote maestro di corazza eh ma livello 1 però perché gli artigiani di livello così basso raga che palle equipaggio una corazza nord e meriana ok praticamente ho equipaggiato questi gioielli perfetto vabbè un altro obiettivo fatto involontariamente e vabbè 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 Grazie a tutti. 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 Vedo un po' di minerali, raga, magari inizio a costruire e magari una zona dove c'è anche un po' di acqua. Vediamo di qua, tipo, non sarebbe una cosa malvagissima. Facciamo un tentativo. Ok, qua c'è un laghettino. Spero di non trovare, ok, qua c'è un bel, c'è un bel, c'è un bel, c'è un bel, c'è un bel carbone anche, che in futuro potrebbe essere utile. Ok, qua c'è un bel, c'è un bel, c'è un bel, c'è un bel... perché non so bene, c'è un bel, 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 c'è un bel. Se andava benissimo Come zona era perfetta Come zona Come zona era perfetta Aia Un attimo, gestiamoceli con calma Non possiamo dire adesso Aia Aia Caffettana No 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 Non me lo fare Non mi fare sta cosa No Caputtana Allora Salute Cordo in fibre Dov'è il fabbro? Dove cazzo è il fabbro? Erano praticamente morti raga No raga Non mi dite mica Ho perso il fabbro No 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 Recupera 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 No Non ci credo Mi viene da piangere Ma come è Ma sti lupi qua sono Over Cioè sono fortissimi Ma adesso io lo ritrovo il fabbro Se ritorno lì Boh Che palle Allora dov'è la mia roba? Qua Perfetto Ci prendiamo tutto Subito carne Armatura Veloce Allora io direi Carne Saporita Spada Fune E Ancora carne Così intanto ci curiamo Che cacchio è lo scudo? Allora il fabbro Raga l'ho perso Beh arrivano i lupi Ancora porca vacca Ma il fabbro mi sa che l'ho perso raga Allora ho migliorato leggermente casa mia Eh Ho messo la ruota del dolore La fornace Eccetera 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 Un po' di cose basilari Eh Sono ritornato lì al villaggio Ma non ho più trovato il fabbro di livello 3 Pensavo che magari qua dentro Magari Potevo riuscire a trovare Qualcosa di Interessante Mi faccio un giro Vediamo un attimo Eh Però sto gioco è fatto veramente ma Cioè Ti fa proprio Nuova Asgard Cioè Su alcune cose raga Il fabbro di Visita nuova Asgard Ok Ho completato pure questa missione Adesso qua io non so se saranno Qua A parte che non c'è nessuno raga E E Vabbè niente qua non c'è nessuno A parte raga che sto gioco ha Veramente vabbè questo oggetto Gravissimi problemi però Vedete quel villaggio Quel villaggio è quello Io mi trovo qua È quello dove Eh Ho trovato il fabbro Ora sono passato Già Tipo Due tre volte Basta raga Il fabbro È sparito Ma soprattutto Il villaggio A volte non viene Proprio caricato Cioè È una roba Proprio stranissima Adesso io provo a farmi un altro giro Ma sono sicuro Ma sono sicuro che non lo troverò il fabbro Cioè Il fabbro è qua Però non sarà di livello tre Livello uno infatti Niente raga Eh Non resta che Continuare l'esplorazione del gioco Io mi dirigo verso la montagna E Continuerò a farmi un giro Eh Io ho detto Spero che questo video vi sia piaciuto Insomma Continuerò Alla ricerca di questo fabbro Di questo Eh Artigiano di livello tre Eh Nella prossima partita E Bella Ciao a tutti